Petrella Vittorio da Bologna nasce a Bologna il 4 novembre 1886 considerato un rappresentante del futurismo ha anche imparato e lavorato con altri stili di pittura le sue motivazioni andavano dai paesaggi attraverso i fiori alle persone e motivi fantastici a Torino durante la sua prima mostra un suo olio viene acquistato da Vittorio Emanuele III e due suoi grandi pannelli floreali vanno al museo civico di Torino ottiene subito riconoscimenti e premi a Bologna a Firenze partecipa alle Biennali di Venezia dal 1926 al 1948 è particolarmente ricercato per i paesaggi di preferenza notturni attivo anche nel disegno e nella litografia Emilio Zanzi scriveva in questo periodo su Petrella era ancora indeciso tra futurismo impressionismo e cubismo lucio ridenti lo paragonò a Henri Matisse nel 1945 il 1950 e il 1974 onorano la galleria di arte fogliato Petrella di Torino con una retrospettiva Petrella Vittorio da Bologna si spense a Venezia il primo dicembre 1951 grazie a tutti